Dobbiamo andarci alla partita. Era così tutti gli anni. Hai ucciso Ivan perché tuo padre ti trascurava? Perché trascurava tutto. Mio padre aveva dimenticato che c'ero anch'io. Faccio venire una delle guardie. Che diavolo sta succedendo? Dove sta? Brutto figlio, ti spaccherei la faccia. Allora avanti, fallo. Che vi devo dire? Quando ho ragione, ho ragione. Ma se era disposta ad accettare dieci anni per il preterintenzionale. Ma grazie al vostro marcato egocentrismo. In fondo siamo tutti un po' meschini. Già. Chi gli prende? Hai vinto, Jack. Il cattivo è in prigione. È il senso di colpa. Un altro goccetto e si scorda tutto. Ah, che peccato. Mi devo salutare. Dovrei essere da mio figlio già da un'ora. Grazie. 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 Grazie.